Questo è un video dalla madonna amore Questo canale contiene le mie personali opinioni Se non siete in grado di farmi un risolta Si sente che c'è Guignero è una cosa buona Però Devastante Impiona Tra il rototototototototodcare E Guignero è una cosa buona Te vastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastaste Mettete like al video si ridesci vi è piaciuto Commentate su Fracommentate su I studenti Seguitemi anche su Instagram Sul canale Telegram Mia di denaro dello svaffo Vi consiglio di non guardare il video. L'autenticità con scritto dietro benvenuto nel nostro club e qui abbiamo le tre campane, uno, due, tre, qui dentro ci sono i ricambi e l'anello estetico, qui abbiamo il deck rigenerabile, qui è difficilissimo farlo lo specchio, qui abbiamo il drip tip e qui abbiamo il portatutto. Con la filettatura centrale per avvitare il nostro atomizzatore e rigenerare l'incomodità, mentre di qua abbiamo un cacciavite a croce e una brugola per la rigenerazione. Allora vi faccio vedere una cosa per volta. Innanzitutto questo qui è la basetta in legno con il loro logo The Vaping Gentleman Club, bellissimo, inciso veramente bene, old style, il legno molto bello. E qui ci stanno le tre campane e qui dentro la base del nostro atomizzatore. Sotto c'è anche il velluto per farlo scivolare dolcemente. Andiamo a posizionarlo qua. Poi tiriamo fuori il nostro deck. Il nostro deck è esattamente questo qua. Allora qui abbiamo le due torrette positivo e negativo, qui sotto il pin forato per usarlo in modalità squonk, potete vedere il pin è abbastanza sporgente, sarà sporgente quasi un millimetro. Qui abbiamo il foro dell'aria. Il foro dell'aria qui fa entrare l'aria dentro questo condotto qui. L'aria va qua sotto e esce da sotto la coil. Praticamente il livello spara da sotto la coil. Cioè dal di qui esce e va in su. Quindi è molto simile ai tank. E questa cosa qui lo differenzia secondo me da tantissimi altri atomizzatori. La base dell'atomizzatore contiene tantissimo liquido, quindi con una squoncata bella voi ci state bene per un bel po'. Le viti hanno la testa a croce, quindi sono molto comode da stringere e da svitare. E qui sotto ovviamente abbiamo impresso 900, numero di serie 431 e il loro logo. Andiamo ad avvitarla nella basetta. Per la rigenerazione. Così viene tutto più comodo. Potete notare anche il filetto è fatto molto bene e la finitura è molto bella. Andiamo a vedere le tre campane. Allora, la prima campana che vi faccio vedere è questa, che è la campana più piccola. Ovviamente in tutte le campane ci sono vari tipi di fori dell'aria, dal più stretto al più largo. Così potete scegliere il tiro che mi piace. In cima il foro è così, quindi è abbastanza sottile. E questa qui è la campana più piccola. Potete vedere che andando in su si riduce molto. Questa qui l'ho provata questa settimana e rende abbastanza bene con i tabacchi secchi tipo Kentucky e Latakia. Questa qui è la seconda campana. Anche questa qua ha tutti quanti fuori per l'aria. E dentro potete vedere che è molto più larga della precedente. Adesso ve le faccio vedere una fianco all'altra. È molto più larga dentro. E questa qui non ho notato un particolarissimo utilizzo, poiché io per il mio tabacco al whisky, quindi dove ho bisogno di una campana un po' più grande per farlo rendere meglio, utilizzo questa qua, che è la terza campana. E potete vedere che è leggermente ancora più grande. La via di mezzo non l'ho praticamente usata. L'ho provata ma secondo me non è né carne né pesce. Mi hanno detto che ne è uscita un'altra nuova e devo ancora provarla, ancora non ce l'ho. Ma noi ci soffermeremo su questa campana qua, che è quella più grande, per chi la proverò con questo qua nel video. E qui rende molto 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 bene il mio tabacco aromatizzato al whisky. Potete vedere anche le finiture interne sono perfette. E' proprio la fattura è bellissima. E anche le finiture esterne. E' fatto molto molto bene. Bene, mi piace veramente tanto. Andiamo a posizionarla qua. Vi faccio vedere anche il drip tip che vi danno loro. Questo drip tip qui esteticamente è bellissimo. L'unico difetto che ha secondo me è che è un po' troppo sottile il foro all'interno ed è un po' troppo lungo. E quindi fa questo rumore qui. Che a me dà un pelino fastidio. Però per il fattore estetico glielo potrei anche lasciare. Oggi lo proverò con questo qua. Io lo stavo utilizzando con il drip tip di Luca Creation perché secondo me è più buono. Vi faccio vedere anche l'anellino estetico che vi danno loro. Che è questo qua. Bellino. Ci sta molto molto bene. Io non lo utilizzo perché io non utilizzo praticamente mai gli anelli estetici. Anche la scatolina 900 spare parts. Andiamo a chiudere la scatola e iniziamo la rigenerazione. Ecco qua. Abbiamo il nostro ottimizzatore. L'abbiamo montato qui sopra la sua basetta. Che è molto comodissima per la rigenerazione. Andiamo a prendere il cacciavite. E con il cacciavite allentiamo le due viti per rigenerare. Una volta fatto questo. Io lo sto rigenerando con la solita shemo coil. Perché l'ho già provato così e secondo me rende molto bene. Andiamo a prendere il filo. Di filo io uso il Cantal A128 Gauge. Che è uno 0,32 mm. Ne taglio un pezzo. Come al solito. E faccio una resistenza su punta da due. Cinque spire. Uno, due, tre, quattro, cinque. Come al solito una volta fatto questo qua io le schiaccio. E viene fuori una resistenza praticamente perfetta. Ora lo giro un attimo per agevolarmi. Una volta fatto questo andiamo a posizionare. La rigenerazione è similissima a quella del Kaifun. Posizioniamo la resistenza. Andiamo a serrare la prima vite da una parte. Una volta serrata la prima vite. Io ora lo girerò perché è più comodo anche per voi da vedere. Cosa facciamo? Giriamo attorno la seconda. La teniamo molto tirata. E andiamo a stringere anche la seconda vite. Una volta fatto questo io tolgo questo attrezzo. Vado a rompere il filo muovendolo un po' in tutte e due le torrette. Quindi una e due. E una volta fatto questo rinfilo qui dentro la punta. E vado a sistemarmi la coil al centro. Perfettamente al centro. Come potete vedere la coil è perfettamente al centro. Ve la rimetto qui davanti. Ecco qua. Devo spostarla. Devo alzare soltanto un peletto. Ed ecco fatto. Una volta fatto questo la vado a montare sopra la mia box. E faccio una piccola attivazione. Vedete che si accende perfettamente dall'interno verso l'esterno. Ora non ci resta che andare a mettere dentro il cotone. Io adesso sto usando il Fiber Freaks perché come ben sapete è il mio cotone preferito. Ma a breve finirò la scorta e quindi utilizzerò il Fiber & Cotton. Che potete trovare disponibile anche già da adesso su Farmacondo. Farmacondo c'è il link in descrizione. Una volta inserito il cotone all'interno della coil. Lo andiamo a tagliare con dei baffetti non troppo lunghi. Praticamente la rigenerazione è molto simile a quella dello Speed. E' uguale a quella del Kaifun per quanto riguarda la coil. E' similissima allo Speed per quanto riguarda il cotone. Una volta fatto questo andiamo a sistemare il cotone nei due lati. Uno, due. E una volta che il nostro cotone è sistemato. Ecco il bello di questa cosa qua è che avendo l'aria da sotto non dobbiamo preoccuparci di come abbiamo messo il cotone. Ovvero se il cotone, per dire qui ce n'è un po' di meno, qui ce n'è un po' di più, non dobbiamo stare a sistemarlo poiché l'aria va da sotto la coil. Una volta fatto questo io sconco e così attivo il cotone. Lo attivo, lo bagno. Vedete che la sconcata deve essere molto lunga. Perché nel tank ce ne sta tantissimo. Per fare prima vado a mettere il liquido da sopra. Vado a bagnare il cotone. Una volta che ho bagnato il cotone si è riempito un pochino il tank. Vado a fare due o tre piccole attivazioni. E potete vedere che funge, funge. Fatto questo come procediamo? Terza campana, quella più grande, quella che dentro è più grande. Andiamo ad inserirla. E una volta inserita andiamo a scegliere il foro dell'aria che ci piace di più. Vedete? Allora, partendo dal più piccolo. Uno. Due. E io scelgo il terzo. Perché il terzo è una via di mezzo che mi piace tanto, 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 tanto. Mi sono trovato meglio. Andiamo ad inserire il drip tip. E potete subito vedere che come combo è molto carino. Eccoci qua, andiamo a fare una prova di svappo. Dentro c'è il mio tabacco al whisky con la campana più grande. Vediamo come si comporta. L'aroma è ottimo. È veramente ottimo. Potete notare che con questo drip tip qui è molto bello, però fischia un pochettino quando ne svappiamo. E tende a perdere un finino di aroma rispetto al drip tip di Luca. Le sfumature del whisky, delle frutte che ci sono dentro e tutte quante le sue particolarità risaltano tantissimo. Come nello speed up. L'hit è uguale a quello dello speed, quindi è un buon hit. E come atomizzatore mi è piaciuto molto. E mi sta piacendo molto. Lo sto svappando molto. In questi giorni qui sono sempre stato attaccato sia perché dovevo testarlo, sia perché oltre ad avere una resa aromatica molto valida, oltre ad essere bellissimo perché mi piace, è anche comodo perché avendo l'aria da sotto la coil, se noi lo teniamo anche leggermente inclinato, non piscia mai. Quindi da portarselo in giro è comodo anche per questa cosa qua. Quando voi squoncate, se ce l'avete inclinato, è molto difficile che esca il liquido dalla coil, che esca il liquido dal foro dell'aria. Quindi non piscia mai. L'unico difetto è che io questo atomizzatore qui lo metto allo stesso livello di uno speed. Con una differenza, che lo speed fa tutto con una campana sola. Esteticamente questo mi piace di più. Come comodità nel senso che non perde una goccia se lo piegate, il tiro si regola molto bene con questi fori qui, riuscite ad avere una regolazione molto personalizzata per i vostri gusti. Quindi gli do un 10 come do un 10 a uno speed. Ma costa di più. È vero che vi dà tre campane che sono belle. Però lo speed riesce a fare tutte queste cose soltanto con una campana. Quindi ragazzi dovete valutare voi. Io adesso che l'ho provato me lo comprerei. Me lo comprerei perché è un pezzo d'arte. Cioè è bellissimo e nella sua basetta con tutte quante, con le tre campane. È proprio, è un pezzo da collezione secondo me. Che chi se lo può permettere è da avere. Anche perché funziona benissimo, cioè non c'è un cassa da dire. È veramente valido. Però lo metto al pari di uno speed. Anzi lo speed costa un po' di meno. E non avete la pugnetta delle tre campane. Nel senso che se volete andare in vacanza, con lo speed basta cambiare i liquidi e rigenerate. Qui dovete portare via anche la campana più piccola. Quella media non la uso. Non l'ho ancora, cioè non l'ho usata perché con i tabacchi secchi uso quella piccola e con i tabacchi aromatizzati uso quella più grande. Quella media non mi ha ispirato più di tanto. Però c'è da dire che il mio tabacco al whisky qui dentro rende da paura, ma rende veramente da paura, come rendeva nello speed up. Mentre un Kentucky o un Latakia con la campana piccola rende come uno speed. Quindi diciamo che può essere, è un po' più versatile, però è come uno speed revolution. Non è niente di più, ma non è neanche di meno. Mi è piaciuto, voto altissimo. Non vi resta ragazzi che provarlo se ne avete l'occasione. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Vi saluto, vi invito a iscrivervi al mio canale, seguitemi anche su Instagram, su Telegram. Mettete, mi raccomando, mi piace il video, anche se non vi è piaciuto, così imparate a non piacere i miei video. Commentate qua sotto se l'avete provato e vi auguro una buona serata. Ah Ah Vi lascio con ah Quasi come goduria, senza il quasi. Ah Un brivido. Ciao a tutti ragazzi, grazie per avermi seguito.